Salve gente, vi avviso, oggi andrò dal mio amico Gallicle, e lo so, l'ordine del re è quello di restare a casa, ma questa è davvero un'urgenza e è necessario parlarne faccia faccia. Rimproverare un amico, anche se il viasimo se l'è meritato, non è mai cosa piacevole, però nella vita può servire e portare dei vantaggi. Proprio per questo oggi farò una ramanzina al mio amico per via di una colpa di cui si è macchiato. Ne farei volentieri a meno, ma la lealtà nei suoi confronti mi ci spinge. In questo paese un morbo ha attaccato senza remissione i buoni costumi, così per la maggior parte essi si stanno estinguendo e mentre la malattia li distrugge i cattivi costumi, li hanno soppiantati e crescono rigogliosamente come un'erba ben annaffiata. In questa città gran parte della gente stima molto più importante entrare nelle buone grazie dei nobili che fare quel che giova al popolo. Così i favoritismi la vincono sull'interesse comune, sono d'ostacolo all'attuazione di molte imprese, creano invidie e intralci nel privato e nel pubblico. Avete inteso? Ora vado da Callicle, vi terrò aggiornati.